la tesoro la faccia dei cani come mamma come si stava scelando avanti non si riesce a fare la gatta umore no c'è riuscito dica non c'è riuscito su chiamelo bambini finire nooo guarda fai tutti i suoi grattini guarda 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 che ha pensato ci sia da mangiare e corso subito guarda guarda il cane che corre dietro guarda guarda Sì, 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 sì. Grazie.